Ciao, sono Agostino Massimo Mano, l'autore di Linda. In questo breve videomessaggio ti esporrò quelle che sono le principali tematiche da me affrontate all'interno di questo romanzo. In particolar modo l'inclusione scolastica. Purtroppo poi abbiamo le droghe, i primi amori, l'emigrazione e il disagio socio-culturale. In particolar modo quest'ultimo punto riguarda il nostro personaggio principale, Diego Arturi. Ebbene, lui è costretto a emigrare dal suo paesino in Calabria, in una cittadina del nord dove si improvvisa professore di musica. Nella scuola in cui insegna incontra Linda, un'alunna paraplegica con un passato turbolento. Per qualche strano motivo è legata a Marco, l'alunno disagiato di Diego, che ha una famiglia sfasciata e spacciadroga all'interno della scuola. Inizialmente avversi, Diego e Linda cercheranno di mettere da parte le loro divergenze. Per cercare di aiutare Marco a uscire dalla situazione problematica in cui si trova. Non mi resta che augurarti una buona lettura e ci rivediamo all'interno di Linda. Ciao!